E' stato ritrovato morto in un burrone Simon Gaultier, il turista francese di 27 anni disperso dal 9 agosto scorso nel golfo di Policastro durante un'escursione. Le speranze di ritrovare il giovane vivo si sono infrante nella serata di domenica scorsa 18 agosto. Il cadavere è stato individuato dagli uomini del soccorso alpino in zona Belvedere di Ciolandrea nel comune di San Giovanni Appiro ai piedi di un pendio. Un epilogo drammatico al termine dell'ennesima giornata di ricerche caratterizzate da una sola novità, il ritrovamento di tracce di sangue in prossimità della spiaggia della Molara di Scario, poi la Mara Scoperta. A dare l'allarme era stato proprio l'escursionista francese con una telefonata al 118 venerdì 9 agosto verso le 9 del mattino e grazie alle immagini di videosorveglianza messe a disposizione dal sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato, gli uomini del soccorso sono riusciti ad individuare l'ultimo punto in cui è passato Simon. In tarda serata abbiamo fatto un ulteriore giro di perlustramento, è stato avvistato da uno dei nostri tecnici che l'ha avvistato con un binocolo, è stato mandato lì una squadra drone, quindi un drone assorbato con la zona che ha dato un ulteriore esito positivo, dopodiché appunto è scesa una squadra sempre specializzata del soccorso alpino-esperologico che è andata lì ha dato un ulteriore esito e sta presidendo da allora il corpo. La zona è particolarmente impervia e non sono necessari dispositivi alpino-speologici per scendere proprio giù, ecco, sì, la zona è molto impervia, per questo ovviamente c'è molta difficoltà a far scendere anche i nostri tecnici che oggi siamo in 65 e qui che ci stiamo andando a fare. Allora sicuramente lui è partito seguendo un sentiero, questo sentiero che in parte era tracciato e diciamo si perde, si perde nel senso non continuo, quindi avrà seguito qualche magari qualche sentiero battuto da qualche animale lì perché la zona è frequentata da animali e quindi avrà seguito qualche sentiero lì dopo di che lui si è perso. Ha smarrito il sentiero, aveva in cima una costa da attraversare che era difficile, avrà pensato di salire. Salendo ha dovuto fare dei salti, ha dovuto insomma forse anche arrampicare, da quello là sicuramente da uno di questi di queste pareti si presuppone sia scivolato giù. Esprimo a nome personale di tutta la comunità territoriale il dispiacere le condoglianze per la mamma, il papà, i familiari e gli amici di Simon. Sono le parole del primo cittadino di Santa Marina, Giovanni Fortunato, tanti volontari della protezione civile che hanno battuto la zona insieme a una ventina di amici di Simon giunti dalla Francia. Un particolare ringraziamento per l'impegno, ci tiene a sottolinearlo Fortunato, per la professionalità e il duro lavoro. Va a tutti i soccorritori, i vigili del fuoco, i carabinieri, la finanza, la protezione civile, il soccorso alpino speleologico e ai volontari. Simon resterà sempre nei nostri cuori e nei nostri ricordi, conclude Fortunato, come un nuovo amato e compianto figlio di questa terra.